Atlantia ci riprova. Per la seconda volta scrive alla Commissione Europea, dopo che la stessa aveva già risposto ad una precedente lettera affermando chiaramente che è una questione che riguarda esclusivamente le autorità italiane. Così su Facebook il vice ministro dei trasporti in quota Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. «Scrivere lettere non serve a niente. È arrivato il momento di prendersi le proprie responsabilità», ha spiegato Cancelleri, ricordando che il Ponte Morandi è crollato causando la morte a 43 persone e facendo luce su un fascicolo enorme di inadempienze e report su manutenzione e sicurezza falsificati per fare più profitti. «Ora basta, perché se il tentativo è quello di prenderci in giro e trattarci con arroganza, i Benetton hanno sbagliato governo», ha concluso Cancelleri.